Musica Buonasera e benvenuti all'edizione pordenonese del telegiornale di Telefriuli. Stop all'uso alimentare per l'acqua d'aviano. Lo ha deciso il sindaco con un'ordinanza a seguito del problema del cattivo sapore che dura da più di un mese. Nel pomeriggio c'è stato un vertice a Pordenone con l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi ed oggi sono in funzione le cisterne nel paese. L'acqua di aviano è potabile ma effettivamente è imbevibile e risolvere questa situazione di emergenza non sarà rapido. Questa la sintesi della riunione tra il vicepresidente della regione con deleghe a sanità e protezione civile Riccardo Riccardi con azienda sanitaria 5, comune, arpa e idrogea. Che cosa è successo è complesso da dire. Intanto fronteggiamo l'emergenza e consentiamo alle persone di avere una vita quasi normale. L'ordinanza del sindaco al momento vieta l'utilizzo per scopi alimentari ma l'acqua si può adoperare per lavarsi. Gli animali potranno essere abbeverati dall'acquedotto mentre per le persone sono attive da oggi una dozzina di cisterne. Una sarà posizionata al cro e un'altra alla casa di riposo. La base di aviano invece non presenta problemi. Le cause sono chiare. Un componente organico che reagisce con il cloro ma individuarlo è molto complesso. Sulle condizioni che hanno generato questa cosa ci sono diverse ipotesi. Diciamo che innanzitutto c'è poca acqua. Ci sono ragioni determinate da siccità e ci sono anche ragioni che probabilmente derivano dall'attività manutantiva delle reti degli impianti. E quindi di conseguenza una delle ipotesi che si potrebbe fare è che nel momento in cui tu vai a pescare l'acqua nel punto più basso probabilmente queste condizioni sono determinate da ciò che è successo il 29 di ottobre e dai residui che ci sono in questi punti. Ma è un'ipotesi. Quindi adesso noi convocheremo immediatamente con la stessa urgenza di oggi via responsabilità di gestione. Cercheremo di capire se sono modificabili i loro programmi manutentivi per cercare di alzare il livello d'acqua in maniera che questo pescaggio dimostri se l'ipotesi di considerare il pescaggio basso quindi praticamente rasentando quelli che sono i fondi l'acqua si presenta in maniera diversa. Diciamo che prudenzialmente dovremmo dire di avere alcuni mesi con una certa emergenza davanti a noi. Le analisi di idrogea proseguono e non è da escludere che il problema si espanda. A San Leonardo Valcellina già sono iniziati i problemi ed è in arrivo una cisterna anche lì. Ad Aviano la questione dell'acqua sta preoccupando sempre di più i residenti. Abbiamo raccolto alcune testimonianze. Com'è l'acqua? È una porcheria ma sotto tutti i punti di vista che è imbevibile, non si possono lavare le verdure, non si può cucinare, non si può fare niente perché putta fuori di maniera. Dopo io non lo so, loro dicono che sia potabile, io ho qualche dubbio. E quindi a scanso di equivoci anche stamattina sono andato a prendermi tre pacchi di acqua minerale e vado tutti i giorni a prenderla perché è imbevibile. Sa che sono arrivate le cisterne? Sì, so che le ha messe, ma ormai stamattina sono andato a prenderla, poi vedremo eventualmente con le cisterne. E lei di che zona è? Sempre qua abito. Una mia zia che abita vicino a me ha l'acqua che puzza, ha odore eccetera. E a casa mia no, è normale. Fai puzza e ha un odore brutto, se sta un pochino sotto la doccia bruciano anche gli occhi. Anche per fare la pasta quindi? La puzza di più quando metto a bollire l'acqua. E adesso è arrivata l'acqua, quindi quanto carico farà? 40 litri d'acqua. Ha appena preso l'acqua dalla cisterna, c'era tanta altra gente con lei? No, in questo momento no. E com'è l'acqua? Non può berla? No, dicono che è imbevibile, non so. Adesso questa è apportabile, dicono che è buona, non so, è la prima volta che la prendo. Saranno le cause del lago di Barsis, ma è una cosa brutta pensare che due mesi più che è successa l'inondazione, i detriti sono ancora lì nel lago. La regione, non so, dovrebbe intervenire, se ne mancano i soldi per queste cose qui, non so. Per fare la pasta asciutta ho adoperato l'acqua del rubinetto. E com'è venuta la pasta? È venuta buona, però la pentola rimane tutta bianca con tanto cloro, si vede che c'è. Si può lavarsi con l'acqua del rubinetto, ma non berla e tantomeno mangiare. E fare il bucato? Sì, si può. Ci spostiamo a Pordenone, dove poche ore fa è andata in scena la marcia per il Venezuela. In tanti hanno sfilato in centro città. Una marcia silenziosa è quella che ha attraversato Corso Vittorio Emanuele a Pordenone con addosso i colori giallo, blu e rosso del Venezuela. Un modo per far sentire la vicinanza delle istituzioni, con tanti sindaci ed esponenti delle categorie economiche in prima fila, ai corregionali che vivono in quel paese, oggi più che mai tormentato da una profonda crisi politica e sociale. La situazione è molto complicata. Diciamo che la mia famiglia è fortunata perché io sono qui e in qualche modo posso aiutarli. Posso aiutarli vuol dire che posso mandare soldi, posso mandare cibo, medicina. Quindi ai miei genitori, che quando vengono sono io che devo prendermi cura dei miei genitori, che è una cosa normale, che può fare qualsiasi figlio. Ma il problema è che una persona che ha lavorato tanto tempo si trova in una situazione che deve dipendere da altre persone. Non è bello. E la situazione è tremenda perché si parla anche di più di 25.000 persone ammazzate per armi da fuoco. Ma anche la violenza di non poter uscire fuori da casa perché hai paura di che ti possano ammazzare per rubarti la cosa più banale, un cellulare adesso ha anche la spesa. In medicinale si trovano quasi nessuno. Quello che si trovano ha un prezzo molto costoso. Quando ti dico un stipendio che sono 19.000 bolivari, che sono più o meno 5 euro, una medicina per la pressione ti costa 30.000 bolivari, più del doppio o del triplo, è abbastanza difficile. Perché lei se ne è andata e che cosa fa qui da noi? Io ho tre figlie che hanno la cittadinanza italiana. Quando sono venuta loro erano piccole ancora e ho pensato nel loro futuro. Allora di emigrare ho detto meglio la Italia, che almeno loro sono parte dell'Italia, diciamo, perché hanno la loro cittadinanza. Il corteo, promosso da Comune, Libera Camera e De Fasce, è partito alle 18 da Piazza Cavour per raggiungere poi il municipio. Il dovere è di manifestare solidarietà ai nostri connazionali presenti in Venezuela e tanti co-regionali, con la speranza, l'ospicio che non sia la manifestazione solo di Porto Anonimo, ma che sia una scintilla che possa poi accendere l'entusiasmo anche in altre città. Del resto l'Italia deve uscire dall'ambiguità, deve unirsi e questa manifestazione ha in questo senso. È stata presentata oggi nella sede centrale dell'azienda sanitaria 5 Friuli Occidentale la raccolta di fondi della DESPAR. Il mondo ha bisogno delle donne. Il ricavato andrà al progetto Medicina di Genere. Go Red for Women. Acquisire una strumentazione elettrocardiografica su misura per le donne. È questo l'obiettivo della raccolta fondi della DESPAR. Il mondo ha bisogno delle donne, che quest'anno nella nostra regione devolverà la somma al progetto Go Red for Women, istituito dall'azienda sanitaria 5 Friuli Occidentale. Le persone che entrano a farci visita dal 23 di febbraio al 6 di marzo presso tutti i nostri punti di vendita di proprietà ad Insegna DESPAR, Eurospar, InterSpar, possono lasciare un contributo che noi solitamente indichiamo come un arrotondamento dello scontrino. Quest'anno abbiamo scelto l'azienda sanitaria del Pordenonese, un progetto nello specifico che si chiama Go Red for Women. Un progetto che punta a dare al cittadino, in particolare alle donne, una risposta quanto più personalizzata possibile. È un progetto importante perché è un progetto della nostra azienda, la nostra è la prima azienda che ha deliberato un gruppo di lavoro sulla medicina di genere, che si occupa della salute di genere, della medicina di genere, che vuol dire la medicina e la salute declinate secondo le caratteristiche della persona. Il grosso problema della medicina in generale è che abbiamo ragionato e lavorato su studi molto consistenti dal punto di vista numerico e dal punto di vista dei risultati, ma che in realtà sinora si sono occupati prevalentemente di una popolazione maschile. Qual è il salto in avanti? È quello di cominciare a ragionare in rapporto a fotori di rischio anche tipici delle donne. I fondi raccolti saranno consegnati l'8 marzo. Despar Verso Sociale da sempre è impegnatissimo e in determinati periodi dell'anno cerca di esserlo ancora di più. Così come adesso, durante, vicino alla festa delle donne, ci stiamo impegnando ormai da anni a fare una raccolta fondi dedicata in Trentino Alto Adige, in Veneto ed in Emilia Romagna. Ci saranno quattro raccolte, il tutto verrà presentato in contemporanea l'8 di marzo e il risultato verrà ufficializzato sulle quattro regioni. Una sola parola, semplice ma piena di significato. Grazie. È il messaggio della delegazione dell'Associazione della Comunità del Burkina Faso residenti nella provincia di Pordenone al personale dei Vigili del Fuoco che martedì 12 è intervenuta durante il tragico incendio di un'abitazione a Pinzano al Tagliamento dove ha perso la vita un bambino di 5 anni. La numerosa delegazione composta da uomini e donne della comunità e condotta dal presidente regionale della comunità Billa Salama ha incontrato i soccorritori al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone e ha salutato con particolare affetto il vigile che era entrato nell'abitazione in fiamme alla ricerca del povero Abdul. Chiudiamo con la cultura. Sta per prendere in via il Festival Dedica che dal 9 al 16 marzo sarà incentrato sulla figura artistica e non solo della scrittrice nicaraguense Gioconda Belli. Dopo l'anteprima iniziata il 15 febbraio parte il conto alla rovescia per Dedica Festival in programma a Pordenone dal 9 al 16 marzo. L'edizione di quest'anno la 25esima è dedicata alla scrittrice e poetessa nicaraguense Gioconda Belli. Una settimana di grandi appuntamenti organizzata assieme ad esperti internazionali ad associazioni e partner del territorio punterà i riflettori sulla sua arte letteraria e sul suo impegno politico. Sarà 25 appuntamenti sono un po' quello che ricalca le 25 edizioni della manifestazione. Si parte il 9 di marzo per concludere il 16 avremo teatro, presentazioni di libri, interviste, cinema, un po' di tutto. Gioconda Belli ha partecipato attivamente nel suo paese alla prima rivoluzione sandinista diventando poi una delle principali critiche quando ha visto che questo tipo di regime che si era instaurato aveva tradito quelli che erano i presupposti di partenza ed ora è una delle voci più critiche e importanti non solo nell'ambito del suo paese ma dell'America Latina nei confronti di questi regimi che si sono trasformati da democrazia in dittature. Una rassegna sostenuta dal comune di Pordenone che il 14 marzo alle 11 consegnerà alla scrittrice il sigillo della città. È un ospite importante un ospite che soprattutto dopo 11 anni abbiamo messo in evidenza arriva una donna con le sue poesie con i suoi libri ma soprattutto con la sua presenza ci fa respirare aria di internazionalità. Pordenone diventa per una settimana un momento importante di cultura e questo è il bello credo dei nostri fermenti culturali di cui dedica tesis sono degli esempi importanti cioè riuscire a andare oltre le mura della città riuscire a essere visibili all'esterno riuscire a fare attrazione. Tutti gli appuntamenti si trovano sul sito Dedica Festival che nei giorni scorsi visto l'impegno civile dell'artista era stato preso di mira dagli hacker. Questa era la nostra ultima notizia ci vediamo domani alle 20.45 e ora vi lascio in compagnia dello scrigno condotto da Daniele Paroni grazie per essere stati con noi e buona serata. Grazie a tutti.